Ho fatto parte di questa società in passato, sono stati gli anni più belli della Palla Nuoto, ho avuto la fortuna di far parte di quella coloriosa squadra. Adesso sono tornato a vivere in questa città e quindi ci siamo avvicinati piano piano, collaborazione, ci siamo scambiati di pareri e poi è nato il discorso e il progetto per il 2021-2022. Quindi è una cosa che a me riempie sicuramente d'orgoglio, è una sfida uscire da un momento di pandemia e quindi rifar partire tutto un settore giovanile. Da anni lavoro proprio con i ragazzi e quindi spero di poter mettere la mia esperienza a disposizione di questa società. L'Abruzzo è tra le ultime regioni d'Italia proprio per quanto riguarda la Palla Nuoto giovanile. Diciamo che la Palla Nuoto si svolge soltanto a Pescara, ci sono due società importanti, due società che hanno parecchi ragazzi che praticano questo sport. Però non ci può essere soltanto Pescara, anche le altre città devono svilupparla. Quindi io spero che si possa fare a livello federale, se questo non sarà possibile io perlomeno proverò a svilupparla con un ente di promozione sportiva, anche in maniera meno agonistica, però sicuramente bisogna fare qualcosa per far partire la Palla Nuoto in altre città.